Grazie e benvenuti in questo nuovo video sfogo, un video sfogo un po' nel senso che vi racconto anche un po' la situazione in cui diciamo sta andando il canale in questa ultima settimana Allora, sicuramente la frequenza dei video è un po' attalenante, no? De botto ci sono tutte le volte dei video, de botto ti arriva un video al giorno ed è per me molto difficile ultimamente creare dei contenuti sempre sul pezzo, le ultime uscite Io che sono andato a vedere Deadpool e Wolverine settimana non vi dico cosa ma andrò di nuovo al cinema a vedere un altro nuovo film che uscirà questa settimana, spero di non deludervi perché dovrò seguire la mia voglia Nel senso che io se parlo non ho capito di cosa sto parlando Quindi, ultimamente cosa sta accadendo? Per niente, ultimamente a parte YouTube, a parte fare altro per sopravvivere, no? Non so, vendere cose su internet o investire in piccole scommesse, eccetera Ci si è messo questa cosa, no? Che da circa di una settimana Perdonate se parlo un po' così perché sono molto provato Ora qualcuno si attaccherà Tu non hai parlato italiano perfetto Questi qua perché non hanno un cazzo da fare Non hanno problemi, forse vengono mantenuti dai propri genitori Non gli manca niente, né soldi, né un cazzo Invece tutto quello che ho, prendi, me lo devo andare io a fare da me Se no, me e nessuno mi dà un cazzo Questo è il problema in confronto a questi stronzi Che si mettono a criticare e basta Capitato che ho fatto qualche errore in qualche video No, a scrivere una copertina Io saluto Andrea che me l'ha detto Non sono riuscito più a sistemare quella benedetta copertina Cioè questo video non se l'è cagato nessuno Dove venire testa di minchia a criticarmi Io ho detto ma forse sarà di nuovo testa di cazzo Che si è fatto l'ennesimo profilo fake Che io dovrò bloccare di nuovo Invece il profilo fake non si è fatto più vedere Da quando l'ho disprezzato di tutte le maniere in quel video sfogo Che ho fatto giorni fa Quindi questo qua è un personaggio che già è un profilo suo, personale E questo testa di minchia Già mi aveva scritto in un altro video Nelle recensioni Nessuno ti salverà Che era un film di merda Che dicendo no, io non capisco niente di cinema Io così E altre stronzate Parla italiano Come cazzo sto parlando in questo momento Maledetto Che cosa cosa sto parlando Sto parlando in un aramaico antico Che cazzo sto parlando Mica ti sto parlando Uè uè io sta fanno la recensione Mica parlo così O parlo Stavo facendo la recensione Ma come fa La facciamo buona No no io sto parlando italiano Cioè non capisco come cazzo volete Che devo parlare con l'addizione perfetta no Buonasera Oggi siamo qua A parlare di una recensione Cosa volete Non capisco Cioè che poi gente che non mi dà un cazzo E pretende che io gli devo parlare a modino Ti 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 Ma vattene a pia nel culo Cioè mettala A parlare A tutto quanto Come vuole lui Cioè io non Non capisco Non capisco sta gente cosa vuole E quindi no Mi ha criticato sulla copertina Che ho scritto male Che ho fatto l'errore Ce l'ha fatta Senza lacca Imbarazzante Imbarazzante il fatto che tu ti sei impegnato E ti sei disturbato A scrivermi questo commento Che se sei una persona educata Una persona intelligente Una persona con una vita Me l'avrebbe detto in un modo Più educato Come Andrea Sì Andrea un po' ci ha messo la gocciolina Delle moci con la gocciolina Però vabbè Ci ho detto Andrea Io ho vari problemi Che ancora non devo andare a spiegare Allora Cosa sta accadendo E cosa io Ultimamente sono molto Pensieroso E non riesco a stare molto dietro al canale Posso fare degli errori Posso sbagliare a parlare Sono molto stanco Riposo poco Dormo poco Dormo anche male Quindi ci sono tutte queste situazioni Che voi Sicuramente C'è chi non farà un cazzo A chi dispiacerà E chi mi farà dei commenti Io vi ringrazio per quello che mi scriverete Non ringrazio gli stronzi che mi scrivono Io in questo momento Sto badando a mia sorella Che Invalida 100% Ok Io prende La maggior parte della giornata Sta con me Perché posso prendermi cura io Perché mia madre è anziana Mio fratello Anche lui Diciamo Anche lui È invalido Però Riesce diciamo A gestirsi da solo Però mia sorella Ha bisogno Di qualcuno Che ci stia dietro Quindi Non può essere Diciamo Lasciata Da solo Questo cosa vuol dire Che quel poco tempo che ho Quando vi faccio i video Vi faccio le cose Le faccio di notte Sì ok Ieri ho fatto dei video Sicuramente li avete visti No Che ho fatto di Pomeriggio tardi Che ero da solo Ma perché in quel momento Mia sorella non era da sola E c'era l'altra mia sorella Che la stava Che gli stava vicino Quindi cosa significa Che io mi sto mettendo Impegno in tutto Chiunque Avrebbe Abbandonato tutto Invece Anziché Queste persone di merda Ringraziare Baciare il pavimento Perché io metto A caricare i video Con tutto ciò Che c'ho 2000 impegni Che si mettono A fare Si mettono A criticare Perché non gliene frega Un cazzo Non gli interessa Una minchia Dico Io non voglio fare Qual vittimismo Oddio Lui vuole fare Si vuole coprire L'errore Che ha fatto Sì L'ho fatto altre volte Errori Ma io sono anche Un padre di famiglia C'ho altri pensieri In testa Sì L'ho fatto altre errori Ora farò più errori Di prima Sicuramente Ma non penso Che bisogna Attaccarsi al stesso Non so Non ti vedi Che ti devi fare La sega Che dopo che non mi vedi Che ti devi fare La sborata su di me Cosa vuoi fare Che cazzo mi guardi a fare Ma non capisco Ah ti voglio vedere E poi andiamo Suoli fan Se mi faccio vedere Va bene Faccio la sega Davanti a te Ma che cazzo Significa Ma te interessa La recensione O non guardare me Boh Non l'ho capito Poi si mette a criticare Il banner Il banner È scritto male Imbecille Il fatto apposta Terror house Quando proprio Che è proprio Bello Che riempivo Tutta la scritta Nel senso Che sembra Qualcuno dice Terror house Invece Invece Come un coglione Non lo sa E alla fine Io cosa ho deciso Di fare Chiunque rompe Il cazzo Lo blocco Basta Fatemi altri profili Lo blocco Mi sono rotto le palle Perché io già Ho poco tempo Non mi posso Non mi posso mettere A commentare a voi A rispondere A vostre stronzate Preferisco Quel poco tempo Che ho Rispondere a persone Che mi apprezzano Persone che mi danno Dei consigli Di nuove persone Che si Legano al canale Che si interessano Non voglio Stare appresso Le stronzate Di sta gente Che va Insulta gratuitamente Va a disprezzare Non apprezzi Il lavoro Degli altri Perché questo Non capisce I sacrifici Che ci sono Dietro A un video Che faccio io Non sanno I miei problemi Che ho In famiglia Non sanno A cosa vado Incontro Ogni giorno Non sanno Io Quando sono Cazzo Stressato E questo È un problema Che alla fine Dopo che l'ho detto Non cambierò Un cazzo Perché questa gente Di merda Ci sarà sempre Anzi Per loro Vi va bene Che sono stressato Perché loro Penso che posso No Nel senso Che abbandono Youtube Lui è troppo Impegnato Ma la pigliata Nel culo Potete fare Tutto quello Che volete Potete pensare Ma io cercherò Sempre Almeno ogni giorno Di portarvi un video In questo momento Io vi giuro Mi sento stanco Veramente È stanco Un sonno Ma io cerco Se mi portarvi Dei contenuti Io vi ringrazio Come sempre Vi lascio Qua sotto Nei commenti Dite la vostra Se vai Iscrivetevi al canale Scendetevi piace Non so se l'ho già detto Attivate la campanina Se non l'avete già fatto E come sempre Noi ci vediamo In un prossimo video State tranquilli Arrivano Nuovi unboxing Nuovi film Diciamo Di quelli là Di quel nuovo Rubrica Noi I film Cult Dimenticati Quindi State tranquilli Su questo Arrivano Le Noi Dimenticati 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 Dimenticati